Se sei anche tu un insegnante di musica ed insegni uno strumento musicale, magari in una scuola o privatamente, ti sarai sicuramente chiesto, chissà quante volte, come fare per combattere la concorrenza di altre scuole o di altri insegnanti privati che gravitano intorno alla tua zona o addirittura dell'insegnamento online dilagante, vero? Beh, mi sono posto anch'io tantissime volte questa domanda, dato che faccio anch'io questo mestiere, e se resterai con me nei prossimi minuti ti spiegherò il risultato della mia approfondita analisi sull'argomento. Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e anche io, nella mia carriera di insegnante, mi sono posto questa domanda e, soprattutto durante le riunioni fatte a scuola, dove ci si domandava cosa fare per cercare di migliorare l'afflusso di studenti nelle proprie scuole, sono rimasto coinvolto in questa spirale di continue discussioni sul come possiamo combattere la concorrenza, come possiamo migliorare il nostro afflusso di studenti. Beh, le tipiche risposte erano, eh, ma quella scuola lì ha un budget enorme, non possiamo competere con quelli lì, oppure quel musicista lì ha un nome talmente grande, ha un curriculum sterminato che mi azzera, e quindi come faccio io a combattere contro di lui? E poi è arrivato internet, l'e-learning cosiddetto, cioè l'insegnamento online, e il pensiero generale all'inizio perlomeno era, ma come si fa ad imparare da delle lezioni fredde come dei video dove non c'è contatto umano? Siccome non si trovava mai una soluzione soddisfacente a questa problematica, ho deciso di approfondire l'argomento e ho cominciato a studiare qualche anno fa comunicazione e marketing. E ho capito una cosa, la concorrenza non esiste, c'è spazio per tutti, l'importante è crearselo. Sei rimasto sorpreso anche tu come me, vero? Beh, se anche tu ti trovi in una situazione di insoddisfazione dovuta magari a un calo di iscrizioni alla tua scuola o di studenti che vengono privatamente da te, ti consiglio di fare lo stesso percorso. Vedi un concetto molto importante che ho capito è che i miei concorrenti sono in realtà concorrenti, con trattino correnti, cioè corrono con me, stiamo correndo la stessa corsa, ognuno di noi ha qualcosa di diverso da offrire rispetto a tutti gli altri. L'importante è trovarlo, per cui accanirsi contro i propri concorrenti è veramente sciocco. Infatti cercare di fregarsi studenti fra di noi è veramente controproducente. E sai perché? Perché gli studenti decidono da soli dove andare. La differenza sta nel messaggio che noi divulghiamo e quindi il tipo di clientela che noi attiriamo. Ma a parte i tecnicismi, ora voglio svelarti il grande segreto che ho scoperto. Il grande segreto è che i nostri reali competitors non sono i nostri colleghi. La verità è che combattere una battaglia per spostare un numero di studenti da una scuola a un'altra o da uno studio privato a un altro è assurdo perché questo numero è troppo piccolo. Quello che noi dobbiamo fare è convincere quella grande massa di persone che passa il proprio tempo libero a chattare sui social di cose inutili, futili, o che passa più di due ore al giorno davanti alla televisione a guardare programmi che non li aiutano a crescere e che magari invece gli friggono il cervello. Dobbiamo rivolgerci a quei ragazzi che si illudono, che iscrivendosi a calcio o a qualche altro sport di quelli cosiddetti ricchi, prima o poi diventeranno i futuri Ronaldo o Federer, essendo già consapevoli di avere addirittura dei limiti fisici. Insomma, quello che noi dobbiamo fare è trasmettere il messaggio che studiare musica e in particolare uno strumento musicale è una cosa che fa bene al corpo e all'anima. Gli farà bene alla sua mente perché svilupperà il suo senso critico, la sua sensibilità alla bellezza, svilupperà il suo lato creativo, gli farà bene al suo fisico perché eserciterà il proprio corpo costantemente e svilupperà le proprie capacità psicomotorie e coordinatorie. E poi gli farà bene perché conoscerà tante persone uguali a lui, i cosiddetti suoi pari. Prima o poi entrerà a far parte di una band e quindi imparerà a lavorare in team, cioè insieme ad altre persone, non da solo davanti a una tastiera o a uno smartphone. Dobbiamo convincerli che tutti hanno talenti, più di uno. E quello musicale potrebbe essere, se coltivato e sviluppato correttamente, quello che magari un giorno gli farà fare il mestiere più bello del mondo. Anche se questa passione non diventerà un mestiere, le persone che studiano musica con passione si riconoscono perché sono persone aperte, sono empatiche, sono sensibili, perché è proprio questo quello che la musica fa alle persone e pensa che non ha nemmeno controindicazioni. Ecco, questo è quello di cui io sono fermamente convinto, perciò vorrei spingere i miei colleghi a smetterla di farsi concorrenza fra di loro e di spostare la loro attenzione su questi pochi concetti che ti ho appena elencato. Farsi la concorrenza porta solo negatività, che non serve a nessuno. Invece vorrei che i miei colleghi abbracciassero questo concetto che ho appena esposto, facendolo diventare la propria missione. Noi che abbiamo questa vocazione siamo una specie particolare di guerrieri. Siamo quelli votati a combattere contro tutto ciò che rende le persone mediocre. L'arte in genere e la musica in particolare sono i veicoli di un processo di elevazione verso l'eccellenza dell'individuo. Non è solo business. Può essere anche un business che, se fatto con l'etica giusta, è un business giusto. Bene, spero di averti spinto a riflettere su questo argomento e ci tengo a sapere la tua opinione. Scrivilo qui sotto nei commenti. In più, se credi che questo video ti sia stato d'aiuto, e potrebbe esserlo per qualcuno vicino a te, condividilo sui tuoi canali social. Per me è importante. Potresti fargli un regalo gradito e di valore. A questo punto ti saluto e ti lascio con un grande abbraccio. Ciao da Ruggero!